Ho visto un mondo di infinite possibilità. Ho immaginato cose che gli altri non riuscivano a vedere. Cieli dove fosse possibile volare, mari senza segreti. Un'infinita rete di possibilità. Ho sempre creduto che la natura potesse insegnarci a costruire un pianeta senza confini. Ho sperato che tutto questo un giorno diventasse realtà. Oggi, quel mondo esiste. Persone straordinarie ogni giorno progettano e realizzano tecnologie innovative per un pianeta sostenibile. Le mie idee hanno viaggiato a lungo, nel tempo e nello spazio. Il coraggio di pensare 500 anni avanti, premia sempre. E, se lo dico io, potete crederci. Leonardo. Costruiamo il futuro da sempre.